O che potrei chiederti Terumatara? Badra è buono. Per ora. Cosa è vero? Chi che capisce il tempio Jalendu, lo dirà il passaggio di Gordano. Il futuro di Kirat è a contatto, e io sono chiamata a Cisabal. Hai visto loro la combattuta, sai come si sono. Amita vuole distruggere il tempio. Dice che questo si libera le donne Kirat e rompere i nostri tradizioni come Tarunmatara. I thought Tarunmatara era una cosa buona. Sabal thinks it is. Se capisce il tempio, si capisce il cerimone e mi fare Tarunmatara. Dice che abrassare i nostri tradizioni è quello che rende uscire. E cosa vuoi fare? I voglio fare Kirat. Ma non posso chiedere sui. Amita e Sabal non vengono, e questo lo resta a te, Arji. Hai fatto una differenza qui, il passaggio di Gordano lo escucherà a te. Ma devi capire che chiunque di Gjallandu diventa il leader di Gordano e quando il Pagano è giocato, lo controllano anche Kirat. anche se credo che ho dovuto fare grazie come tu sai che ho avuto la decisione credo che questo è davvero un vero semplice spettando su ruine prenderemo tutto valorevole per poterciarlo e vendere credo che questa bala non è male ma il templo stesso io voglio che lo romperemo in plastica io voglio che vanno in un bote di plastica io vorrei che vanno in un bote di plastica io non so che io come che io non so che io prenderemo il mio cammino lo malo mio sta alli in una pared lo malo mio sta alli in una pared lo malo mio sta alli tienes que estar relajandome come che come che quittate come che è molta vita come che la larga dove sta? pensi che è qui però non la vedo ok, vanno a dare desattivare qui allora falta una della che non ho visto come che come che dici che sta qui eh? deve stare all'a o qualcosa o qualcosa da mia matare tutto il mondo prima o prima o prima o prima perché ella aguanta molto però con tanta gente qui non potrei poter l'olPH ajdoro una me dica en la rat mira come sta corriendo Jap ma mi dica el Assac criz no eeh? dicono eeeh? decidere cosa questa cosa era tu il che te veia aspettate, non posso fare cose, ma non pendevo me la pongo la venda me la pongo e che ti vei? che ti vei? velo ahi dove sta? per me la pongo la venda e ora? aguanto 7 ok, c'è un rober per a qui hace rato che non stiamo dando a tu e il compagno e io definitivamente puoi tener que cambiare la venda ehi ehi no io se la porta planta 3 4 non lo so non lo so non lo so non lo so ehi no lo so che carajo oh e la bomba che passo? la pinta la pinta la pinta la pinta è tutto io vi so non lo so se io ho animazione e sto bajando di aì Ok, hai dovuto mettere uno qui? Il altro qui? Che cosa succede? Ahi vieni Ahi vieni Ah Ah, sono malo Se sono rossi, non sono nessuno Ehi, chi mi sta dando? Ehi, come la me la llevo a lui Noi, come la me la llevo a lui Noi, come la me la llevo a lui Vai questo di qui, sr. Goldbero si è caliente si è vero épico aspettate che mi ha clavato una hélice e qui a me signor Sibol è fuori ma già sei sicuro non più Tarun Matara prenderla back to the camp non so dove è Sibol e non lo confio C'è questo con Sibol? Non ora, abbiamo più problemi Pagan è about to hit Utkash con l'artigia Non possiamo farlo Destrua i canoni prima di riparare Utkash off the map Sono in No, perché qui non è giusto Sibol Sibol, fuori i soldi Non si scusate Non si scusate Siamo pronti per il nuovo Stiamo prontando la posizione Siccilla il canale Ok Tu ti ho scusate Non si 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 scusate Sì, i puoi svare! E' la lama? C***o che ti ha il rinforzamento non c'è l'euro, non c'è l'euro 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 ha passato tu dinero Noi sono più progetti Se lascio che il mio chaleco guarda più bravi guarda io non sono più bravi guarda come lo hanno io ho avuto con questa gente però sai che non sono nessuno vediamo in breve, ragazzi i ragazzi i ragazzi Tutti gli explosivi. Ora, scappa dal l'area. Ello perché questa gente non si scappa, parliamo. La crema. Arranca! Arranca! La crema. Donde sta tutto il mondo? Nel Kalash. Siamo preparando tutto per il finale. Questo è tutto. Ganno o perdiamo. Zabal sta diventando la panna d'orata. Si sta diventando la panna d'orata. È sufficiente è sufficiente. Tu ti chiede, Leto? Tu ti chiede a matarlo. Sono molto particolare con le miei parole, RJ. Non lo lasciare fuori da questo. Inoltre, hai pensato che lui sarebbe bene con te? Lo scopriando e sbagliando con me? No. Non ci si trattiamo di lasciare Sabal vivere. Adesso. Cuidate. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Nei. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non super nascina. Non lo so. E' quello. E' l'end чего dovete bere giorni. Che cosa pensi che stai facendo? Tu stai sbagliato su tutto il tuo padre ha fatto. Grazie. Tutto che ha detto qualcosa è irrelevante grazie a te. E' quello che è davvero triste, ragazzi. Tu hai portato tutto a Amita. A Amita. Tu pensi che può rinforare a Kiran? Come? Le strumenti di droghe in un pollo che posso vedere? Le strumenti di domande in le stazioni di fabrile dove i uomini, i uomini e i uomini sono liberi di essere pochi? E' un paio di strumenti in cui tutti sono sbagliati. Sì, non lo farò che sia il paese. Quindi, cosa sarà, fratello? D'accordo. Va. Vieni. 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 E loro stavano dietro, vero? E loro venivano a mia guarida. Si è stato invisibile, no? Non so se che tu hai visto, ma lo stanno matando fuori. Non sarà facile. Ho sentito a Sabal. Quali che senti, sapete solo che Amita vuole quello che è meglio per Kirak. La fortalezza è arrollata. Mi sembra una misione di calo dure. A questo che mi danno un chaleco, panna. Che ti ha fatto? Che ti ha fatto? Il tipo è stato roto. È un cattoletto. È un cattoletto. È un cattoletto. Che. Ok. No. Non parli di farlo! Ataquem, ataquem! No! Ehi, tu, che fuori esto? Acappé i bingo! Vivo a bingo! Iba a bingo! Iba a bingo! Oh! 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 a la derecha golla? oh, what the fuck, a la derecha pero a la derecha, a la derecha a la derecha a la derecha adios don y campero matado a mi equipo ok, capturando, debo que daña aquí, what the fuck ok, es como Carlos Dury, capturando el lugar coño, pero donde es que yo saco tantos papeles de baño hay como 100 gente por acá la verdad se puede, pero son misiones secundarias marclay 4 solo deja jugar misiones secundarias y yo estoy jugando la campaña, esto es un joveno si, es como un joveno con un trajecito oh, así mismo, dale, dale, dale como que no mate a mis aliados, no son ellos que están de pendejo ahí adentro señora, permiso ay, jay, mario bro dice que es enemigo, pero, ah, pero yo estoy ciego, eh dice que es enemigo, pero yo estoy ciego, eh bueno, ahi ahí estamos ataquen, soldadito eh, quedo soldadito ahí abajo dice eh, que lo soldadito ahí abajo dice helicóptero vamos, vamos, aguanta menos que descalos de limón de wifi E' un po' di più Si è morto la signora? Si è morto la signora? Si è morto la signora? Dettrò la bazzucca E' un po' di più Si è morto la bazzucca Ma non è libero Sì! and dinner is nearly ready I can't go io credo che sono la sede della TN già dice che? Buonan... Noche! Ah, io vorrei che se la foto era... Con chi parlo? Con il figlio che è tornato? Non credo che sia una buona idea in serio? e tu lo vienes per a? se tu hai solo ascoltato, solo aspettato per me allora ci saremmo tornato qui insieme, insieme e scattare la tua madre quindi tu devi essere la seconda che non ascolti ho deciso invece di unire i altri monkei e iniziare a lanciare la tua roba ma ti raccomando let's start from there certo, io sto ganando io direi che hai due choices uno, potresti usciare a me bambino o potresti sentire e tu e io andremo a scattare la tua madre insieme tentatore io credo che io prefero dar te lo tuyo ciao 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 Grazie a tutti